Lasciate 10.000 mi piace per un prossimo Piosotevusì Bene ragazzi bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video Oggi ragazzi come potete ben vedere con me c'è una ruota Ragazzi prima che parta il video volevo mostrarvi NordVPN Ma che cosa è un VPN? Quindi un esempio pratico Voi siete a casa ma è come se fosse a scuola ragazzi, lavorate al stesso modo Vedendo i stessi file e le stesse cartelle Quindi NordVPN permette di avere protezione Facciamo un esempio pratico, noi che viaggiamo tanto abbiamo dati protetti Da per tutto, aeroporti, ristoranti, bar In più ragazzi NordVPN ha 5.500 server velocissimi in 60 nazioni In più ragazzi c'ha la banda illimitata ed è compatibile con quei sistemi operativi Che sono Android, Linux, Macintosh e Windows Quindi ragazzi in descrizione troverete il mio codice e link personalizzato Codice Tati per un mese in omaggio Detto questo torniamo al video E non sarà una ruota della fortuna ma sarà una ruota della sfortuna Sicuramente lasciate 10.000 mi piace per un prossimo Piazzate così lo faremo più extreme Allora ragazzi come già avete potete leggere Ci sono delle penitenze importantissime Io cosa farò? Andrò ad aprire un draft Come potete ben vedere Se non esce walkout ragazzi giro la ruota e se esce penitenza fanno la penitenza C'è anche qualche bonus però sono più malus che bonus Però andiamo subito e vediamo un po' cosa ci esce Ovviamente il modulo lo scegliamo senza problemi 4333 direi Quindi se esce walkout che facciamo così Stabiliamo 85 e più Tanto esce lui sfigo direi di prenderlo Ragazzi se non esce walkout penitenza 85 su walkout Meno di 85 non è walkout e quindi farò la penitenza Vai! Vediamo un po' nelle attaccanti cosa esce Ecco Si parte subito con la penitenza Non ci voglio credere Vai! Andiamo Allora scelto E andiamo subito a girare la ruota Vediamo cosa ci esce Boom! Uovo in testa Non ci credo Del primo Non ci voglio credere Subito uovo in testa Forca miseria Ragazzi sono pronto Andiamo un po' Uovo in testa Forca miseria Mi metto così perché se no mi mi colla tutto addosso Va bene Sono pronto 3, 2, 1 Aia! Orco 2 Quanto è duro! No regà mi sono fatto malissimo Porco cane Cazzo è di pietra sto uovo No regà Non ci siamo regolati qua Vabbè lasciamo la terra È rimasto in mano No tra l'altro è rimasto solo No Ve lo faccio vedere a fine video È rimasto intero regà L'ho spaccato intero È rimasto Pazzesco No si è rotto No era rimasto intero E si è rotto Bene Allora asciughiamoci Mamma mia Già la prima challenge L'uovo in testa Tanto dicono che l'uovo va bene i capelli Quindi provateci anche voi L'uovo in testa Siamo partiti benissimo Speriamo che da qua in poi ci diamo walk out Vediamo un po' No vabbè raga Non ci voglio credere Non ci voglio credere Prendiamo Clivert Non è walk out Rigiriamo a sta ruota Ma chi me l'ha fatta fasta sto video? Coca cola Questo è buono ragazzi È uscito il bonus Coca cola Ah un goccio di coca Anche se la coca non fa benissimo Però va bene Ah un goccio di coca cola Andato Anche se Oh walk out Dai ti prego 85 Ole 85 Ci siamo salvati Ora qua ci siamo salvati 85-86 Allora siccome mi ha fatto serie A Vai Rilinkovic Vediamo un po' cosa esce adesso Uh Icone Perfetto Fatto serie A Icone Prendiamo Ringhio c'è C'è Ringhio Però c'è Petit Francese No Prendiamo Ringhio Lo faccio per Rilazza Vediamo un po' Ti prego Non mi dare 85 Bene Oh Alan Anche se vuoi C'era Pogba Modric Vabbè Alan Facciamo la serie A ragazzi Vediamo un po' Terzino sinistro Vediamo cosa ci esce Uh Alex Sandro 86 Perfetto Firamò L'uovo E la Coca Cola Ragazzi Coulibaly Assolutamente Vediamo a destra Chi ci esce Oh E la Madonna Romagnoli Bonucci Romagnoli Perché questo è più potente Ragazzi Sto uscendo una super serie A Ci siamo salvati anche qua Ci siamo salvati anche qua Puyol Mamma mia Mamma mia Ma in porta Esce sicura una pippa Invece no Invece no Donna Rumma 85 Vediamo subito la riserva Le panchine Olè 88 Andano C'è Schmeichel Schmeichel E 90 Oh Assolutamente Schmeichel Beh ci uscita un draft Fino a mo' buono Andiamo un po' Giordi Alba Bonucci Bonucci 87 Possiamo togliere C'era Cola Non me ne ero accorto Vabbè Così aumentiamo di valutazione Facciamo pure il 190 Mi sa Oh Ci siamo salvati raga Guardate qua Giordi Alba mi ha salvato Stavo per rigirare la ruota Ma Giordi Alba L'hai salvato Vediamo chi è Ecco qui è arrivato il messaggio Che devo fare la sfida Ragazzi Lo scelgo dopo Kiwi intero Stavo mangiando un kiwi intero Ovviamente non l'ho specificato Quindi devo mangiarlo con la buccia Ragazzi Questo è un kiwi Non è male la buccia Provatelo Un po' spogno Però non si butta via niente ragazzi Un kiwi intero La molletta E' bello Potevo mettere anche la molletta Non ci ho pensato Mi sono salvato anche qua Manè Sicuro mi esce di merda Guarda Cristiano invece 94 Ebbè che fa Cristiano Non lo prendi Cristiano Ronaldo Mettiamolo punta Abbiamo fatto 186 ragazzi Vediamo chi è La Madonna C'è Trist Ma c'è De Bruyne Però aspetta Trist lo posso mettere Potrei mettere anche Trist Volendo Vabbè Prendiamo Trist Posso metterlo qua Fa meno 4 Ma sfigazzi Cioè Aspetta se lo sposto qua Meno 2 Ah perché cdc No no scherzavo Va bene Vediamo le riserve Vediamo un po' 89 Ci sono salvati Subito ci sono salvati Con Sterling No No Non ci voglio credere Vabbè Prendiamo per 8 intanto Allora Dopo il kiwi intero Vediamo cosa esce Cos'è La salvia Cosa esiste la salvia ragazzi C'è la salvia Qua sicuro Devo prendere il coso Mettere un po' di salvia Sopra Nel cucchiaio Quando è bello pieno Vediamo se ci vede Che c'è la salvia Si Vabbè Si capisce Anche se non me lo metto a fuoco Ragazzi La salvia così Se non me fa schifo proprio Proviamo Non è bello Parca miseria Allora Che cazzo è Che schifo Che schifo Ve lo giuro Che schifo Vediamo la prossima pagina Con 86 mi sono salvato Meno male Lorenzo 88 Coutinho Meno male L'ultima Dimmi che è buona Dimmi che è buona Non ci voglio credere C'è tutti Non ci voglio credere Prendo Gervinio Però non ci voglio credere L'ultima Dopo la salvia Vediamo cosa ci esce Uovo in testa Un altro C'è miseria Altro uovo ragazzi Bello freddo tra l'altro Vediamo eh 3 2 1 Aia puttana Eva Perché non si roba Il primo colpo Che dolore Che dolore Che dolore Che dolore Che dolore Ma perché sono così dure Ste uova Ma dove le hanno prese Aia Sono pure sporcato tutto Porca miseria Che dolore Che dolore Ragazzi Lo giuro Che dolore Non potete capire Comunque Sono pure le mani sporche Mi sento ancora Un uovo in testa Non va giù Sì va giù Ah Che schifo Puliamoci Comunque Ci tol 187 Va bene Non è 100 Perché ho messo Due giocatori a caso Però Sistemiamo la panchina 188 Beh non è male Come draft Dopo che mi sono rotto Due uova in testa Ho mangiato la salvia Che stavo vomitando Giù raga Non provate a casa Mettere la salvia in bocca Così a pezzi Che mi fa vomitare Comunque Non ho avuto Un draft maluccio Spero che questa idea Di video vi sia piaciuta In caso Vi sia piaciuta Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo al prossimo video Bene ragazzi Questo è quello che rimane Delle due uova Che tra l'altro Una era rimasta intera Ma c'è pure la salvia E l'acqua che ho vomitata Che bello